Pordenone Blues Festival con musica, teatro, arte, cinema, letteratura, itinerari enogastronomici e culturali. E' questo il ventaglio degli eventi che si mescoleranno in sette giorni nella ventitresima edizione. Oltre 200 tra artisti addetti ai lavori parteciperanno tutti uniti per creare un evento memorabile con il blues come elemento di riferimento. Il festival inizierà questa sera e avremo già un grande protagonista che è Ronnie Jones. E' un mito della musica solo a livello europeo, è una persona che ha cantato con Mick Jagger e Alexis Korner. E direi che è uno spettacolo veramente imperdibile. Mercoledì 27 invece facciamo il primo Blues Music Day in Italia con stage con artisti a livello internazionale. Un appuntamento da non perdere è quello di giovedì e venerdì, sono due giorni dedicati al nostro territorio. Abbiamo voluto grazie alla musica internazionale coinvolgere i nostri produttori e anche le nostre zone. Abbiamo quest'anno coinvolto la Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina e insieme anche i show cooking dove ci saranno appunto anche i show cooking di Luca Manfè, ci sarà Fabrizio Nonis. Il programma completo lo potete trovare nel sito www.pordenonebrusfestival.it e vi aspetto a tutti quanti. La posizione del Comune di Pordenone nelle parole dell'assessore alla cultura Claudio Cattaruzza. Questa è un'occasione per lanciare un messaggio anche fuori dal territorio comunale, per questo l'amministrazione comunale appoggia la manifestazione, oltre per la sua valenza culturale, anche per il suo essere momento ed elemento di grande richiamo di pubblico verso questo nostro territorio.